Buonasera professor Contini e grazie per questa video intervista. Buonasera. Intanto cominciamo dalla definizione della pandemia, di pandemia, per chiederle che cosa cambia dal momento in cui l'OMS ha dichiarato che di pandemia appunto si tratta. Allora la pandemia come dice la parola che deriva dal greco pan cioè tutto ed emos che vuol dire a popolo significa che sta coinvolgendo, ha già coinvolto la maggior parte dei paesi se non tutti i paesi della terra. Per quanto concerne l'Italia in realtà per noi cambia assolutamente poco perché noi siamo già in un clima in cui tutte le norme che sono state attuate e quindi restrittive sono praticamente state approntate per contenere il più possibile il contagio e la diffusione del virus. L'Italia ha preso delle misure che sono state progressivamente molto restrittive per frenare il contagio. Ecco, sono misure necessarie a suo avviso e se sì sono sufficienti? Sono delle misure assolutamente necessarie. Per adesso non potevamo fare di più ma non è escluso che nei prossimi giorni dovremo attuare anche qualche altra norma ancora più restrittiva. Purtroppo dobbiamo fermare il contagio, soltanto ieri ci sono stati oltre 2000 contagi, quindi nuovi casi positivi al virus, positivi al tampone, per cui dobbiamo assolutamente cercare di frenare questo contagio che è allo stato attuale e un contagio che avviene esclusivamente per via respiratoria e quindi bisogna applicare tutte le norme restrittive in tal senso. Ma di fronte ad una pandemia, l'allarme e quindi tutte le misure di contenimento e contrasto al contagio dovrebbero essere globali? Dovrebbero essere globali, però purtroppo ci siamo trovati in una situazione purtroppo assai spiacevole da dirsi che alcuni paesi hanno cercato di nascondere l'epidemia e quindi il vero significato di quello che sta succedendo. E non ce li abbiamo distanti questi paesi, soltanto da poco, cioè ieri sera il Presidente della Repubblica Francese ha annunciato delle norme restrittive per quel paese, cioè per la Francia, ma che certamente non sono ancora di livello tale per essere considerate misure importanti per fronteggiare un'epidemia, in una pandemia. Noi invece le abbiamo attuate e probabilmente ne metteremo in pratica ancora di più. Parliamo del contagio. Come si trasmette il Covid-19? Il contatto con oggetti e superfici può essere un veicolo di contagio? Il SARS, il coronavirus 2, che in pratica è il virus responsabile della malattia che è la Covid-19, si trasmette allo stato attuale sulla scorta delle acquisizioni che abbiamo fino a questo momento esclusivamente per via respiratoria. È un virus nuovo, quindi trova tutta la popolazione generale completamente sprovvista di difese immunitarie, per cui siamo tutti suscettibili all'infezione, nessuno escluso. È una trasmissione per via respiratoria e questo quindi impone delle misure restrittive come quelle che sono state prese fino adesso dal governo italiano e prima di tutto naturalmente dalla Cina. Quindi distanza di sicurezza, un metro e oltre, il lavaggio accurato delle mani, proprio allo scopo di evitare di toccare con le mani sporche le principali fessure che possono rappresentare il veicolo dell'infezione, cioè la bocca, gli occhi e il naso. Ecco, gli italiani sono praticamente chiusi in casa e si fanno anche molte domande e se ne fanno però anche quelli che vanno tutti i giorni al lavoro, cominciamo da questi. Come proteggere chi continua la propria attività in fabbrica, nei supermarket, nelle farmacie? Sono sufficienti le misure igieniche che vengono prescritte? Finora le misure di contenimento del virus che sono state varate, che gli italiani stanno rispondendo molto bene, seppure purtroppo è in ritardo per fronteggiare questa situazione che si è verificata, sono sufficienti. Quello che sta succedendo nelle fabbriche e che speriamo che non vada fuori controllo, proprio stamattina il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto che tutti i lavoratori delle fabbriche verranno fra poco provisti di un kit per, appunto, comprensivo di mascherine, di guanti e di quant'altro, proprio per cercare di fronteggiare e per mantenere il contenimento dell'infezione. Ecco, professore, ricordiamo le mascherine. A chi servono? Allora, le mascherine, c'è un po' di confusione da questo punto di vista. Allora, le mascherine, secondo quanto dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomanda di indossare la mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi come tosse e starnutti. Questo bisogna tenerlo ben presente. Quindi questa è la prima. I sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus che presentano una sintomatologia contraddistinta da tosse e starnutti. Oppure ancora, chi si prende cura di una persona che ha una sospetta infezione dal nuovo coronavirus. Queste sono le raccomandazioni ufficiali declinate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi dovremmo tutti attenerci a queste indicazioni? In teoria, attenerci a questo. Usare la mascherina per strada non serve assolutamente a niente. L'epidemia ci ha trovato in carenza non solo di mascherine, ma purtroppo anche di strutture sanitarie, di medici e di infermieri. Ecco, la Germania ha 28 mila posti letto di terapia intensiva, l'Italia poco più di 5 mila. Ecco, le chiediamo, il Covid-19 ci fa più paura per questa ragione? No, perché innanzitutto la Germania ha 80 milioni, 82 milioni di abitanti e l'Italia ne ha 20 in meno. Però questo non vuol dire tanto. Noi abbiamo una situazione contrassegnata da circa 12 posti letto per 100 mila abitanti, comprensivi anche degli ospedali pediatrici. La Spagna è messa molto peggio di noi perché ha 10 posti letto per 100 mila abitanti. La Germania va bene perché ne ha 30 di posti letto per 100 mila abitanti. Però noi facciamo molto meglio degli Stati Uniti, del Regno Unito e addirittura anche della stessa Svezia, che è tutto dire come servizio sanitario nazionale. Quindi noi abbiamo, è vero, allo stato attuale circa 12 posti letto, ripeto, per 100 mila abitanti, per quanto riguarda appunto le reanimazioni. Però teniamo presente anche un altro fatto molto importante, che il Consiglio dei Ministri ha varato da poco un piano per fornire, per darci circa un migliaio di posti letto in più nei prossimi giorni. Quindi questo è già operativo, lo stanno per mettere in pratica. E quindi tutte le strutture sanitarie, anche non solo quelle dell'animazione, ma di malattie infettive, di pneumologia, se ne avvantaggeranno. Professore Ascolti, l'ultimo decreto fissa il 25 marzo le misure più restrittive. Le chiediamo, basteranno 13 giorni per capire se si riesce a mitigare o a frenare il contagio? Questa è una domanda molto importante, cioè vale a dire che vista e considerata l'andamento dell'epidemia, ieri avevamo 2200 casi in più, se si mantiene questa curva è chiaro che non basteranno. Quella data non sarà sufficiente per poter rallentare la morsa e la presa da questo punto di vista. Quindi purtroppo gli italiani dovranno fare ulteriori altri sacrifici e probabilmente anche ad aprile la situazione si manterrà in tal senso. Per cui dobbiamo vedere, noi deve immaginare che una grande scintilla che c'è stata, vale a dire il focolaio di Cologno, e poi delle piccole scintille secondarie che si sono sviluppate nel resto del paese. Allora è chiaro che le piccole scintille non sono grandi quanto la grande scintilla di Cologno, però le piccole scintille hanno la potenzialità di poter essere domate e spente. Quindi noi ci auguriamo che questo comporti ovviamente anche un impatto notevole sull'andamento della curva epidemica in questo momento. Ma lei si sente di fare delle previsioni sull'evoluzione di questa epidemia? Visto l'andamento attuale io ritengo che purtroppo non potremmo parlare di fine dell'epidemia se non dopo due o tre mesi, perché non mi sento di fare delle previsioni ottimistiche visto l'andamento attuale della pandemia e quindi di quanto sta succedendo nel nostro paese. Noi dobbiamo immaginarci che l'Italia è in una situazione paradossalmente più grave di quello che è successo in Cina, però dobbiamo prendere esempio della Cina, in Cina c'è stato l'80% del calo dei contagi e quindi questo vuol dire che le misure di contenimento dell'infezione che ha adottato il governo cinese sono state eccezionali e che si sono tradotte naturalmente in un abbassamento della contagiosità della malattia. Quindi questo significa che la restrizione deve essere importante, non bisogna mollare la presa, gli italiani devono più che mai stare a casa, uscire soltanto come appunto viene tutti i giorni detto dai telegiornali e dai media, stare a casa, quindi cercare di evitare gli assembramenti ma anche i rapporti interpersonali ravvicinati, questo è estremamente importante. Professore la ringraziamo naturalmente e le auguriamo naturalmente un buon lavoro, noi sappiamo tutti che siamo in buone mani naturalmente per quanto riguarda tutta la sanità del nostro paese, Emiliano Romagnola e naturalmente Ferrarese, grazie. Io ringrazio lei e tutti i medici, gli infermieri e naturalmente tutto il personale sanitario che lavora all'unisono per questa importante emergenza.